Caccioni, perché ha deciso di lasciare Futuro In? Bene, non è che io e il consigliere Falasca una mattina ci siamo svegliati con la voglia di diventare indipendenti. Noi abbiamo accusato il gruppo Futuro In perché all'interno del gruppo non c'è metodo né merito nella scelta delle decisioni importanti per la città. Tanto è vero che da un po' di tempo che sia in Futuro In che in maggioranza non c'è più condivisione delle scelte democratiche. Nella prova che venerdì dopo una riunione di quattro ore in Futuro In loro avevano già stilato un documento per la stampa a firma dei cinque consiglieri di Futuro In in cui praticamente ribadivano che a loro stava bene tutto, condividevano il pensiero di gatti, le parole di gatti vangelo. Quindi noi trovandoci in minoranza, io e Falasca in democrazia, essendo in minoranza siamo usciti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la scelta del sindaco di portare la giunta a nove? Sì, una scelta scellerata e irriverente nei confronti della città perché a Teramo abbiamo 4 mila sfollati, le casse comunali sono in dissesto quindi non abbiamo ritenuto opportuno aumentare la giunta perché ciò comporta ulteriori esborsi economici che pagano i cittadini e soprattutto avevamo stilato un documento programmatico in cui non c'era questa giunta, l'allargamento di giunta è vero che c'è stato il terremoto, le condizioni sono cambiate, ci si poteva risedere e rivedere un po' tutto dai punti e dalla giunta vedete, io nel 2014 ho sostenuto Brucchi in campagna elettorale perché il percorso era un percorso comune per raggiungere quegli obiettivi per il bene della collettività qualcuno però ha perso di lucidità, non ha più quell'onestà intellettuale A chi si riferisce in particolare? Alle altre sferde della politica, Teramana Il percorso si è deviato per fini personali, interessi personali e per preparare la campagna elettorale alle prossime politiche Lei cosa farà? Soprattutto quale sarà il suo atteggiamento, l'atteggiamento dell'altro consigliere che ha lasciato futuro in Falasca in consiglio comunale all'interno della stessa maggioranza? Siete indipendenti o siete minoranza? Adesso siamo indipendenti, abbiamo fatto delle richieste al sindaco, congelamento di tre assessori, azzeramento della giunta Lui deve rifare una squadra nuova senza interferenze esterne Se qualcuno rinsavirà io potrò tornare anche con il mio vecchio gruppo di futuro in, potrò rimanere in maggioranza Se qualcuno non rinsavirà io potrò passare anche all'opposizione Certamente la cosa che voglio dire è che bisogna riprendere un certo tipo di coerenza e sincerità Praticamente sono venuti a mancare gli stimoli del 2014 quando noi abbiamo fatto campagna elettorale per Brucchi Grazie a tutti! Grazie a tutti!